Un incendio scoppiato per cause ancora in corso d'accertamento si è sviluppato la notte scorsa a Bari in un deposito di materiale idile. Per spegnere le fiamme sviluppatesi poco prima delle tre sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco con 15 uomini, due autobotti da 7.000 litri, la cisterna da 28.000 litri e il camion schiumogeno. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti del quartiere Picone dove si trova il deposito. Grazie a tutti.